Avviso di condizioni meteo avverse fino alle 24 di venerdì prossimo e quindi vento forte sulla costa ma anche neve. Vento forte sulla costa che permarrà fino alla mattina di giovedì 3, poi il vento gradualmente si attenuerà, vi sarà qualche raffica che permarrà sui settori lungo la costa meridionale, poi invece il discorso delle neve che durerà fino al pomeriggio della giornata di venerdì. Sia stanotte che domani avremo degli episodi deboli, concumulate intorno ai 5 cm ovviamente lungo la fascia costiera e sulle zone diciamo pieneggianti e invece per la mattinata di venerdì, per la prima parte della giornata di venerdì avremo delle precipitazioni che saranno diffuse e più consistenti, concumulate e stimate intorno ai 10 cm. Temperature impicchiata? Sì, l'eruzione di aria fredda sarà costante fino almeno a tutta la giornata di venerdì con aria molto fredda di origine diciamo continentale polare, quindi viene dai quadranti orientali, nord orientali. A tratti i flussi saranno intensi e l'aria sarà molto fredda, per cui oltre al discorso delle nevicate vi sarà anche il pericolo di gelato.